Hanno reso ufficiali leaks, quindi ora se ne parla. Ammetto che apprezzo molto questa mossa di dire non facciamo finta, è ridicolo, fare finta è stupido. E poi se no dobbiamo rivelare di nuovo le carte liccate e facciamo la figura di merda di fare la live dove diciamo e vi facciamo vedere le carte ma in realtà le conoscete già, cioè quindi hanno fatto bene a farle vedere subito. Eccoci qua. Tra l'altro bellissima è sta frase. C'è un significativo numero di nostri fan che preferiscono vedere le preview senza la fuzzy and distorted potato camera. Che grande. Esatto, hanno fatto benissimo. E Flair or Denial è rotta ragazzi, cioè 3 mana counter, spell, che sacchi una creatura blu. È fortissima, è fortissima. Devi avere la roba in campo ma è comunque una counter a zero. Beh. Ci sono tanti tempo deck che questa carta gli serviva per esistere. con dell'artwork della madonna. Kton e Nightmare, incantesimo, entra e prendi energia. Entra energia, paghi X, sa rifianatura, rimettilo in mano, riprendi una carta con un valore X dal cimitero al campo di battaglia. Quindi energie per rianimare. Notevoli per star tork, peraltro. Labyrintho di Hugin, eccoci qua. Dov'è, dov'è il lore? Quando entri nel campo di battaglia puoi esiliare una carta colorless con mana value 7 o me, o più dalla tua mano. Stai scherzando? Cioè, dal turno 1? Cioè, te praticamente ti to... Peraltro è meglio, non è un malus. Se spacchi la terra l'hai persa, ma... Ti salva Karn o qualsiasi altra cosa che tu ci abbia da 7 o più da scartino e diventa un sentomb senza danni. Anche perché te la salva, non è bel... Cioè, non è un malus questo. Te la salva da scartini e interazioni finché quando vuoi tappi e te la riprendi in mano alla fine del turno dell'avversario. Questo è fuori di testa. Questa è una delle cose più folli che potevano fare. Cava di Urza. Tre mana serifia, cercano una terra, mettono in campo tappato e shuffle. Questa è una mana... È un fixing per il limited che non ti tappa. Ok. White of the reliquary. Terra non base. Oh merda, la voletta male. Ok, vabbè, è fortissima anche questa. White of the reliquary. 2 mana 2-2 vigilance. Prendi 1-1 per ogni creatura e non terra nel tuo cimitero. Serifia natura. Cerca il mazzo per una terra, mettele in campo tappato e shuffle forte anche... Meno male hanno capito che Night of the reliquary costava troppo. Questo l'hanno fatto 2 mana 2-2. Spongang con ma... 5-1-2-2 devoider e non ha... È colorless. Quando casti questa spell crei 3-0-1 e il Drasi spawn che sa chi rampano. Sa chi nel Drasi fai due danni ad ogni target. Figa questa non comune. Ristampina di K. Era doverosa, mi sa. Quanto è arrivata? 60 euro. Che hanno dovuto già ristampare K nonostante sia così fresco. È fresco, eh. Era veramente tanto fresco il K. 2 euro? E allora perché costa così tanto? Ah, perché non è in Modern. No, è in Modern. Era già in Modern il K. No, era in Legacy. Era in Legacy. E ora entra in Modern. Era in Legacy. E ora entra in Modern, sicuro. la testa bassa entra in moda. È fortissimo. È fuori di testa il K. Meltdown. Grandissima. Ristampa lo a mia... Cane! Cane! Questa la devo regalare a Sylvia per forza. Domanda due flash. Quando attacca... Perché flash è quando attacca? Non hanno senso insieme. Esila fino a un altro... Esila fino a un altro permanente non terra. All'inizio della tua end step. Rimetti la carta in mano. Rimetti la carta in campo sotto controllo. Si è entrato sotto controllo. Metto in segno più uno più uno. Su Felia. Per cosa la voglio usare io questa? Blinca pezzo quando attacca. Ma... Si gonfia quando il pezzo torna quindi alla fine del turno. Però è molto bello. Molto bello. Null drifter... 4-4. Pesca 2. Volare a Nichilator 1. Evoke 3. È il godo. Però non capisco... Boh, ma... Quando mai lo giochi a 7? Boh, in trono. Oh... Ma dov'è l'ore che sborra? Cazzo vuol dire il Drasi Dragon, Erigast? Scusa. 9 mana 6-6. Quando casti questa spell puoi esiliare la tua mano. Se lo fai pesca 3. Volare ogni spell creatura che castia emerge. Cos'è emerge? Cos'è emerge? Cos'è emerge? Cos'è emerge? Ah, puoi restare questa spell serificando la natura e pagando il costo di mana ridotto dal manavaglio di quella creatura. La puoi fare in curva di quinto. 6-7-8. Di quarto. Di quinto la puoi fare in curva, tecnicamente. Orso gonfio! 2-2-2-2. Le altre creature hanno forza, base e costituzione. Tutte sono 2-2 e sono orsi. Tutte. È interessantissima. Scusa? Scusa? Seriamente? Sì, però ci devi avere il mana specifico in colore. Non è facile. Cioè, ci devi avere apposta. Nei monosassi. In trono. Un mana neutralizza una spell multicolore o distrugge un permanente multicolore. È tanta roba. È il Nether Goif. L'avevamo visto. Un mana. Secondo me è forte perché? Perché in realtà è molto gestibile. Il tarmo non si gonfiava così tanto con la roba dell'avversario tanto quanto la tua che controlli te. Fai terra, fetch, bolla, istantaneo, stagonerie. 4-5. E quella stessa cosa la puoi fare con Nether Goif scendendolo di primo, però. Grazie null... Per il ride. Cioè, te fai turno 1 Nether Goif Fetch, Nether Goif, bolla, è 3-4. È 2-3. Boomergiando lo puoi fare con entrambe. Adesso. Un mana 1-1 sali via la terra la creatura che controlla e prende il shroud fino a fine del turno. Cazzo! Gratis? Senza tappare subito? Forte. No. Allora, io non voglio scorrere. C'è scelto l'isocrono? Non voglio... Ditemelo adesso. Hanno ristampato anche l'isocrono chapter? Ok. Voglio saperlo subito. Beh, canto di Orim. Chi non giocava... Alzi la mano chi non giocava. Alzi la mano chi non giocava quando la gente faceva scelto l'isocrono canto di Orim. Ok. Sottocanto non giocava nessuno. Niente, c'è scelto l'isocrono vedente ci imprinti una spella e la spammi tutti i turni e... con Orinciante e Lock. Winter Moon. C'è Winter e già mi sta sul cazzo. I giocatori non possono stappare più di un permanente non... Terra... No, più di una terra non base durante l'ora untap. Carina! Monoverde sborra! Tanto stappa... Nictos e tutte le foreste. Com'è addio Monoverde? Che botta c'avete? Questa la prende Monoverde come sasso. La prende e ti locca. la prende... la prende... Stappi una terra non base. In Modern gioca Tron ma su Arena in Historic no. In Historic Monoverde con Winter Moon locca la roba. Locca la gente. Domain con le basiche. Praticamente. Siege Gang è Luterant e questo è Commander. Ok. Madonna questa... Questi sono solo Commander, vero? Quindi Legacy volendo. Basta? Basta? Beh. Su Arena arriva in Historic e Timeless ragazzi. Detto un milione di volte. Però 간 do. Premio. NevesMS LG adorichi. di Halle di Hò. Ho. 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 tanta roba tanta roba veramente sarà un'espansione sbroccata probabilmente a livello di Modern Horizon 2 wow